sei una persona molto simpatici dobbiamo divertire ho voglia di ottimismo un po di positività ci sei ok perfetto ok ci vediamo tra poco non 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 allora è un artista molto attivo sui social dove non fa a mancare i suoi pensieri e le sue opinioni su quello che accade nel mondo e siccome le sue idee spesso sono politiche non correct viene attaccato allora ha detto tutti siamo al mondo per dare un servizio la differenza è che tanti lo fanno solo per soldi molti come me per passione anche ora che faccio il cantautore servo delle emozioni questa sera è con noi giuseppe povia ciao a tutti guarda giuseppe grazie per essere Heather Parisi live qui da Hong Kong guarda so thank you thank you grazie per essere venuto e come stai e dove ti trovi e a cosa stai lavorando mi trovo in Italia a Firenze e sto lavorando ad una canzone che si chiama serenissima che è un'autoproduzione e parla della Repubblica di Venezia che è stata in piedi 1100 anni e lo faccio perché non mi piace l'idea che nella scuola italiana la Repubblica di Venezia sia un piccolo trafiletto così quando sono stati in piedi 1100 anni di storia e hanno ispirato anche la Costituzione americana per cui Benjamin Franklin ha passato 15 giorni a Venezia per capire come Venezia era stata in piedi 1100 anni sei milanese però sei sei milanese sono nato a Milano però sono pentito ti sei ti sei pentito era una battuta ok però però abiti a Toscana no a Firenze sono di origini sono un po' di origini toscane un po' di origini napoletane anche Brindisi vero napoletano Bari oh Bari ok comunque tu sei sempre bellissima mamma mia come sei bella grazie grazie volevo farti volevo dirti qualcosa eterna oh thank you so much ti mando un bacio enorme guarda stavo ben detto un paio di frasi in Toscana allora vabbè la cavalla di Nicola la hojola con la hanuccia e cicale 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 tu sai cosa vuol dire cicale in Toscano la conosco a memoria sì eh lo so lo so allora tu sei una bella cicala infatti thank you so much allora quanto ti pesa l'etichetta di essere uno che che genera sempre polemiche che anche io sono nella stessa barca dico una cosa e anche se mi sto difendendo dico una mia verità e sono la solita polemica allora come come ti come ti trovi ti pesa allora diciamo che l'ambiente dei mass media ha una linea unica quindi se tu riesci a stare in quella linea senza andare da una parte dall'altra lavori sei ben stimato sei l'ambiente della musica soprattutto è ben disposto nei tuoi confronti quando invece attraverso la musica magari cerchi di cantare degli argomenti che dividono pochettino allora o vieni messo da parte o vieni ridicolizzato sì questa cosa mi pesa perché invece vorrei essere accettato come un cantautore sociale che canta delle cose che magari nessuno canta perché si ha paura di non lavorare poi sai bene che io non ho una verità però ho una visione del mondo che magari non viene raccontata per questo me la passo economicamente male ma moralmente molto bene dopo dopo parleremo anche di questo tu ed io siamo l'esempio che si può essere diversi in alcuni temi importanti penso al tema dell'immigrazione della famiglia ma pensarla allo stesso modo su altri temi importanti e penso alla vaccinazione contro la cove 19 dovrebbe essere la normalità invece si tende a generalizzare in pratica si appiccicano un'etichetta e poi si è legato a quell'etichetta a vita cosa cosa pensi cosa ne pensi di questo beh sull'immigrazione ho scritto una canzone che ho pubblicato qualche anno fa che si chiama immigrazia un gioco di parole come dare il potere appunto al business dell'immigrazione sono stato insultato da tutta questa sinistra democratica per bene ma in realtà stavo cantando un pensiero di Karl Marx che scrisse nel 1870 quando l'ho detto sono spariti tutti mentre invece sulla vaccinazione io non essendo un medico devo fare sempre una premessa sono un cantautore mi informo mi piace ascoltare magari delle cose che nel mondo non mi piacciono mi piace descriverle in musica cerco di metterle in canzone poi se qualcuno mi fa una domanda da giusto osservatore cittadino soprattutto parlando della mia pelle non posso sottrarmi quindi rispondo alla domanda in questo caso non è che me l'hai fatta solo tu me la fanno tutti quando vado in televisione uno ho paura di questa vaccinazione e quindi non l'ho fatto due perché vedo che si fanno tantissime dosi e quindi non mi sembra un vaccino come tutti gli altri anzi credo che non lo sia oramai molti medici lo dicono e tre perché secondo me i media i governi hanno fatto in modo che tutti i cittadini fossero tutti contro tutti e questa cosa qui non dà fiducia alle persone ecco perché c'è ancora uno zoccolo duro di cittadini che si rifiutano ma guarda che si rifiutano anche quelli che magari hanno devono fare la quarta dose o la terza dose e vengono considerati dei non vaccinati perché oramai non ci stanno più guarda molto ci accusano di essere freebacks per convenienza e per cercare visibilità ma non sanno che essere freebacks ha chiuso molte porte piuttosto che aprirle ti ha dato più vantaggi o più svantaggi essere freebacks io non sono neanche freebacks in realtà io sono un no covid vax no covid vax ok questa è una roba che non mi fa paura ho avuto due esperienze di due amici uno dopo una settimana dalla seconda dose di moderna giocava a pallone insieme a me ed è morto e l'altro invece paralizzato alla gamba dopo due dosi di moderna e quindi da quel momento mi sono spaventato poi vedo delle cose che non mi arrivano chiare io sono anche ipocondriaco e quindi me la passa un po così è vero è la vita è difficile perché se non ti allinei però cioè nel senso il mondo è bello perché vario la libertà di scelta nella costituzione e il governo soprattutto in italia facendo un decreto dove sospende i lavoratori che non succedeva neanche nei tempi del nazismo no gli ebrei lavoravano quando fai un decreto così tu praticamente violi tre articoli del codice penale 610 612 629 che sono minaccia estorsione e violenza privata quindi la corte costituzionale che non fa il suo lavoro non è una corte costituzionale seria ok io sostengo che tutto quanto è successo ha trasformato la società mondiale e propositi ipocondriaci di un banca ipocondriac negli stati uniti e così già da un bel po non so se tu sai che gli americani sono fissati con le medicine ne prendono una per curare un malessere e poi un'altra per curare i side effects di quella che che hanno preso il malessere e poi un'altra ancora per curare i side effects di quella che cura i side effects di quella che cura cioè non finisce non finiscono mai gli americani io da quando ero piccola mi ricordo che 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 mia 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 le mie zie e mia madre guarda prendevano una medicinale e poi prendevano un'altra e prendevano un'altra era 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 un continuo allora tu sei un po ipocondriaco perché se tu sei ipocondriaco e non mi sembra così perché la tua scelta di non vaccinarti sembra il contrario perché no ho paura quindi non lo faccio e credo che non lo farò mai poi l'ho preso il covite sono riuscito a guarire centinaia di milioni nel mondo che siamo guariti senza il vaccino quindi il vaccino non è l'unica via questo è un dato di fatto siamo andare contro questa cosa qua poi è una cosa mondiale diciamo che credo che sia più o meno in tutte le parti del mondo che le persone più vanno avanti e più prendono i farmaci e poi i farmaci per curare gli effetti avversi dell'altro farmaco e così è così ti indebolisci e muori in effetti si hai ragione però tu sai una cosa quando io vado andavo sono due anni ormai che non andiamo negli stati uniti e senza parlare male però magari ero casa di mia sorella o casa mia zia o casa mia madre nel honolulu a hawaii e magari uno di noi aveva un po di mal di testo oppure magari jet lag fuso orario eravamo un po riembambite del viaggio un leggero mal di testo loro sono estasiati la cosa perfetta per te vanno e ti portano dieci medicinali e sono felicissimi di farti avere questi medicinali e di farti prendere questi medicinali c'è una è una cosa guarda allora a te piace metterci la faccia a sanremo nel 2010 il tuo brano la verità parlava di eutanasia l'anno prima il tuo brano luca era gay sempre sanremo aveva fatto molto parlare se ci pensi bene i cantautori dovrebbero essere proprio questo come tu hai detto prima dovrebbero essere grilli parlanti svegliare le coscienze mettere dubbi scalfire le certezze e invece sono scomparsi cosa è successo dove dove sono spariti a parte tu che stai parlando così da account autore e vuoi trasmettere quelle che tu pensi e quello che è la tua verità dove sono gli altri allora va beh se devo essere sincero io ci ho avuto anche delle proposte per entrare nella campagna vaccinale nella campagna governativa cinque sei mesi fa e non me la sono sentita perché penso che ci esiste che esista il prezzo il valore il prezzo vale quanto lo paghi fai tutto quello che devi fare prendi soldi e stai zitto il valore invece non ha prezzo ho quasi 50 anni magari se ne avessi avuti 20 avrei avuto probabilmente un'altra testa ma prima o poi mi sarei accorto della fregatura dall'altra parte sono molto legato ai cantautori degli anni 70 80 quelli che denunciavano le cose che non avevano paura di parlare di politica oggi sono l'unico ma non è che me ne vanto perché ho capito che anche se da una parte scusa mi sono appena svegliato anche se da una parte c'è un mercato discografico per queste tematiche perché il seguito che ho io arriva quasi fino a 200 mila persone che però non riesco a raggiungere per vari motivi appunto di diffusione di promozione anche perché ci vogliono anche un po di soldi ci vorrebbe un imprenditore un manager dall'altra parte però ti senti talmente libero io penso che nella vita tu non esprimi quello che vuoi e non esprimi quello che ti senti poi prima o poi t'ammali dentro perché devi sempre tenere tutto chiuso stare zitto leccare il sedere ed è un compromesso che non piace poi magari se ti chiedono guarda devi cambiare un pezzo di una canzone il verso falla più corta falla meno rock quelli sono compromessi che magari posso anche accettare il compromesso con il morale non voglio lasciare questo di messaggio alle mie figlie lo so che da una parte sbaglio perché potrei allinearmi però dall'altra parte sono sicuro che sto andando sulla strada giusta che qualcuno lì su prima o poi guarda per me l'arte nasce dalla sofferenza e dal bisogno di fare uscire quella sofferenza perché per me è stato così volevo fuggire da casa e la danza mi dava libertà in effetti è vero perché poi tu quando salivi sul palcoscenico eri un'altra eter parisi cioè quando facevi le interviste quando scusa te la faccio io un'intervista quando facevi le interviste quando ti facevano le domande avevi la risposta avevi il sorriso ma quando entravi sul palcoscenico non c'era proprio non ce n'era per nessuno cioè non quando sa vai sul palcoscenico perché mi sembra ieri sei ancora qui non ce n'è per nessuno proprio è io a mia mamma mi ricordo che dicevo mamma senti ma è per parisi quando io sono grande no realtà siamo più o meno coetanei però io ero a casa tu eri televisione ma secondo te ma lei è bella così perché io me la voglio sposare volevi sposarmi che carino quanti anni avevi 10 5 anni o più grande di te io no io sono più tu sei più grande di me io sono del 60 madonna davo per scontato che io fossi più grande di te no sono arrivata in italia nel 79 avevo 19 anni e quando mi vedeva in televisione avevo 19 anni a disco bambina cicale 21 no non hai fatto una gap mi ha fatto un complimento però io sono hai mai mondo del mio io sono più grande di te dice vedi pensavo il contrario basta punto ma senti ai raggiunti è successo nel 2006 con la vittoria sanremo vorrei avere il becco l'anno prima c'era stato i bambini fanno o quanto quanto si è pesato diventare famoso perché per me è stato difficilissimo perché io soffro di agrofobia soffre di stare intorno alla gente come tu dici magari quando salvo salivo su palcoscenico io ero aggressiva ero me stessa mi sentivo fortissima invece prima io sono molto timida e trovavo grandi difficoltà loro tu come come ti è pesato diventare famoso no 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 mi piace stare in mezzo alla gente io quando sto sul palcoscenico per esempio coinvolgo la gente la guardo in faccia vedo se una persona mi sta ascoltando se qualcuno è attento se qualcuno arriva con un pregiudizio mi piace molto guardare quello che che la gente vede sul palcoscenico che mi accorgo da lì e posso migliorare anche in corsa e poi mi piace stare in mezzo alla gente io abbraccio bacio da sempre più grandi come più grande i più grandi manager mi dicevano l'artista deve tenere il pubblico a due metri di distanza perché se no non è più artista ma secondo me avevano anche ragione solo che non ce la facevo anche oggi e cosa rappresenta per te un concerto ma il concerto è aggregazione se poi fai un concerto politico perché ti chiamano organizzazione magari sociale diventa anche in azione attraverso la canzone attraverso magari uno schermo dove metti delle slide se è un concerto di festa di piazza un concerto di palazzetto di teatro allora cerco magari di farlo in tre in tre fasi canzoni d'amore nel primo tempo se non i sociali nel secondo tempo e magari canzoni politiche allegre nel terzo tempo che è una cosa che non fa nessuno e non è detto che sia giusto ma come vive un canto autore tempo della pandemia si può ancora lavorare e come puoi lavorare perché se il vostro fatti dischi si però andate anche su palcoscenica fate anche concerti come si vive come avete vissuto come hai vissuto durante la pandemia ma io devo ringraziare intanto tutte le persone che mi hanno chiamato a fare le manifestazioni è vero che ci andavo a rimborso spese però qualche disco magari me lo sono venduto più che altro per cercare di campare infatti grazie anche a delle interviste su portali su piattaforme importanti come la tua qualche mail arriva si parla di numeri veramente piccoli però posso magari arrivare alla fine del mese posso cambiarmi le gomme della macchina la mia 500 però devo dire che avevo due possibilità o mi deprimevo oppure facevo qualcosa e nel primo lockdown mi è venuto in mente di fare questo disco in cantina che ho chiamato in perfetto perfetto perché in cantina può venire solo che in perfetto però è molto apprezzato le persone me lo ordinano non sono i numeri delle case discografiche che danno tanta promozione tanta visibilità però posso posso riuscire ad arrivare alla fine del mese ma lei decise di di aprire un canale tutto mio perché voglio essere ad appresistivo perché voglio essere liberi di dire fare quello che voglio senza dover rendere conto nessuno e tu hai deciso di auto produrti l'hai fatto anche tu per la stessa ragione sì perché auto produzione significa che puoi iscrivere arrangiare aprire un progetto e chiuderlo quando vuoi se non ti convince qualcosa alle 4 di notte lo riapri lo pubblichi quando vuoi decidi di rimandare la pubblicazione cioè sei libero se poi posso cantare canzoni come dito medio non lo so facendo a te la canzone che si chiama dito medio cioè posso cantare canzoni come tutto cambierà che parla del disastro del meccanismo europeo di stabilità però detto molto ironico molto fresco posso cantare canzoni come immigrazia o posso cantare anche canzoni leggere come cameriere è stato il mio lavoro per vent'anni che tu hai citato in apertura della trasmissione cioè osservi qualcuno perché sei appassionato e aiuti le persone nel caso del cameriere cercavo di consigliare dei piatti dei vini per far star bene la gente nel caso del cantautore cerco di consigliare delle emozioni oppure vivi la vita soltanto guadagnando soldi e che ti fa schifo anche il lavoro che fai magari io scelgo la prima sono d'accordo con te guarda ha inventato un termine termine che che mi mi ha divertito molto s o s che sta per sostenere la gente fatica a capire che dietro a quello che che fa un artista c'è un grande lavoro che dovrebbe essere riconosciuto da da chi lo apprezza altro prodursi a costi importanti cosa intendi per s o s e come funziona beh s s significa una richiesta di aiuto redoni fece una canzone che si fece una trasmissione che si chiamava help alla fine la musica non è riconosciuta un lavoro soprattutto in italia quando tu dici che canti le persone comunque si oggi ti può andare bene però magari domani non ti va bene perché la musica è un ciclo e non dura per sempre sta a noi cercare di avere dei contenuti nel mio caso per cercare di incuriosire le persone e far capire che invece io sono una persona che si impegna molto soprattutto sul prossimo brano che pubblicherò il 25 aprile che in italia si è la festa della liberazione ma è anche la festa di san marco e della repubblica di venezia ed è un lavoro di cinque anni quindi quando tu s o s si sostiene la musica libera io chiedo per esempio una donazione per questa canzone serenissima invece di comprarla 0 99 centesimi se ti piace fai una donazione se non ti piace te la regalerò ma io mi affido proprio al buon cuore della gente cosa bisogna fare per comprare i tuoi dischi per comprare questo nuovo disco di cui mi hai parlato adesso è semplicissimo la musica si scarica in ogni modo però se avete piacere di sostenere un autore libero che ancora canta degli argomenti che nessuno canta perché si ha sempre paura di non lavorare potete scrivere a giuseppe povia che sono io e cioè chiocciola vodafone punto it e vi rispondo personalmente ok perfetto io sarò la prima a te lo regalo nell'album in perfetto mostri nostalgia per gli anni 70 80 ma tu in quei anni eri un bambino piccolo piccolo cosa ricordi con nostalgie di quei anni perché io negli anni 80 avevo vent'anni e 1980 avevo 20 anni ma tu eri eri piccina ma cosa ti mancava cosa che nostalgia degli anni 70 la nonna la mamma stare davanti televisione non so cosa cosa ci mancava cosa ct mio papà mi raccontava ho scritto poi una canzone che sempre nel disco imperfetto che si chiama torneremo italia tanto si possono trovare su youtube dove io mi ricordo mio papà mi ricordava un'italia che ho vissuto anch'io che era un'italia che si amava senza i telefonini un'italia che era molto più sociale meno social un'italia delle panchine nei giardini dei giardini pieni di ragazzini che avevano a pallone che piantavano due borse per terra oggi i prati sono tutti vuoti e mi ricordo di un'italia che fumava ascoltando i pinfloi dei duranduran mi ricordo del concerto di madonna a torino mi ricordo che c'era un unico canale dove alle 20 e 30 guardavi ether parisi al sabato sera cioè quell'italia io ce l'ho molto chiara e c'è una fotografia bella precisa nella mente dire adesso si è perso un po tutto sembra quasi che siamo vecchi a dirlo in realtà i vecchi sono i nuovi giovani sono dentro giovani sono d'accordo con te guarda quando io facevo primo fantastico facevamo 27 perché portobello con tortora faceva 29 milioni e noi 27 milioni di telespettatori perché come hai detto tu non c'erano i telefonini e non c'erano i social non c'era internet c'era i ragazzi quando almeno quando ero giovane io e giovani che erano lì a guardare me eravamo sempre fuori all'aperto non eravamo mai chiusi in casa o fare quei giochini c'era totalmente un'altra vita c'è anche io nostalgia della libertà e dell'ottimismo eravamo ottimisti eravamo sereni eravamo sì il giorno dopo era meglio del giorno prima non so se mi spiego era un'altra mentalità un altro modo di vivere la gente era gentile con il prossimo adesso invece la gente non vede l'ora di attaccare è vero che quando stavamo parlando prima che la mia verità stavo dicendo che qualcuno mi attacca e io mi difendo dicendo mia opinione o la mia verità quello che credo io la gente non vede l'ora di massacrarti è una cosa dove io non questa rabbia in terra e quando ho detto a mi ricordo chi stavo intervistando e che c'è una i cuori neri non vedo gente solare non vedo la gente che vede il prossimo e amara la gente non voglio essere cattiva in questo momento però io vedo tanta gente tanta amarezza tu se vedi anche tu non so sì sì no vedo tantissimo egoismo in giro vedo tanta schizofrenia secondo me questo qua è il termine giusto la schizofrenia di fare sempre tante cose la schizofrenia di stare sul telefonino e condividere la schizofrenia di farsi una foto di farsene 10 e scegliere la migliore la schizofrenia di uscire poi la sera la schizofrenia dell'alcol la schizofrenia della droga cioè è tutto all'ennesima potenza e quando poi tu hai detto che vieni attaccata comunque veniamo attaccati perché siamo delle idee diverse o mettiamo magari non abbiamo idee diverse abbiamo qualche idea magari da mettere in più nel calderone del tritacarne mediatico io penso questa cosa qua che chi ha le idee viene criticato da chi non ce le ha però anche giuseppe anche chi ha dubbi oggi come oggi non puoi avere un dubbio devi seguire quelle che dicono loro con i paraocchi esattamente quelle che vogliono loro ecco infatti anche questa cosa qua se io tornassi indietro non sai quanti ti dicono ma se tu tornassi indietro e tutti si fanno belli con la solita risposta rifarei tutto ma che cazzo stai dicendo ma c'è una vita nuova a disposizione rifaresti proprio tutti gli errori che hai fatto ma non esiste al mondo cioè io cambierei tantissime cose ecco magari mi farei venire meno dubbi perché magari in ogni tanto te la vivi meglio infatti guarda quando hai vinto parlando sempre di sanremo quando hai vinto sanremo alla domanda chi è il tuo mito ha risposto mio padre quanto è stato importante la figura di tuo padre e nella tua vita perché io ho conosciuto mio padre è andata via di casa quando avevo due anni l'ho conosciuto un attimo 16 anni e poi l'ho conosciuto bene mentre stavo facendo stasera lino con lino bambi a roma ma io non ho conosciuto mio padre invece vorrei sapere questa questa questo tuo rapporto con tuo papà che mi affascina molto a quella che non ho avuto io il rapporto papà figlio e mamma figlio è sempre fatto di alti e medi i bassi li eliminerei proprio quando si dice alti e bassi facciamo anche medi però a parte la vittoria di sanremo che parlava dei piccioncini degli innamorati vorrei avere il becco se ne altro che quello i piccioncini che vanno in giro a due a due che si vogliono bene e si accontentano delle briciole eccetera eccetera e ho dedicato in diretta la vittoria mia mamma mio papà chiedendo a mia mamma di dare un bacio a mio papà perché era tanti anni che non li vedevo darsi un bacio mia mamma poi mio papà si è alzato mia mamma gli ha tirato un calcio ma questo è un dettaglio però quando mi chiedono chi è la donna più bella dico mia mamma e chi è il tuo grande mito dico mio papà bellissimo vorresti essere importante allo stesso modo per i due figli o figli maschi femmine cosa bimbe due femmine allora vorresti essere stesso modo per le tue figlie o vorresti esserlo in modo diverso di com'era tuo papà cerco di essere la controparte della medaglia perché la mamma tende ad essere la mamma quindi più morbida è quella che passa più tempo con i figli quindi la più paziente quella che magari su dieci cose otto fa finta di niente per non urtare diciamo la sensibilità dell'adolescente e io dall'altra parte cerco di essere un pochettino più duro un po più ferma un pragmatico se severo come papà ai polso come se severo ai polso quando c'è da esserlo sì perché se no diventiamo morbidi i figli crescono morbidi le future generazioni nel 95 per cento sono tutte promosse a scuola e quando in una nazione il 95 per cento dei ragazzi è promosso che che la cazzo di classi politiche future possiamo avere quindi un po di pugno duro ci vuole adesso faccio a te quello che normalmente fanno a me a me chiedono sempre di accennare cicale disco bambino crillo allora se io canto dici di tu questi di queste tre cosa cosa devo cantare mi fai un accenno di di bambini fanno io faccio una una strada la cosa vuoi disco bambina cicale cosa quale ti ricordi di più cosa ti piacerebbe poi tu mi fai subito dopo i bambini fanno no mi piacerebbe il verso della formica che invece non ci cale mica mi piaceva proprio quella frase perché era bella leggera sorridente e anche sensuale ma te lo ricordi sensuale si era della formica invece non cicale mica era il tuo sguardo che era sensuale cantami i bambini fanno ho un piccolo limitando tutti i bambini fanno o dammi la mano perché mi lasci solo sai che da soli non si può senza qualcuno nessuno può diventare un uomo per una bambola un robot pot magari litigano un po ma col ditino ad alta voce almeno loro è fanno la pace thank you grazie siamo arrivati al momento thriller di questa puntata il questionario di heather heather's questionnaire io ti faccio dieci domande secche e tu devi rispondere la prima cosa che ti viene in mente ci stai? vai ok la spontaneità è fondamentale ok allora quale consideri la virtù più sovrastimata? eh vedi che ti sento male heather non mi senti? no ti sento male forse è alto il volume del tuo microfono e arriva un po distorto se devo rispondere veloce devo capirla subito ok adesso dalla regia mi abbassano il microfono adesso mi senti meglio? prova mi senti? mi senti ok non è una scusa per fammi ripetere due volte la stessa domanda per pensare non l'ho sentita ogni persona che ho fatto questa domanda non sapevano come rispondere mi fanno oh my god e quanto è difficile quale consiglio no non l'ho sentito ok quale consideri la virtù più sovrastimata? l'ignoranza no? anche una virtù quella ok mi piace ok allora qual è il talento o la dote che non hai e che vorresti avere? vorrei avere un po' più di muscoli muscoli nel senso più fisico sì perché il muscolo sì il muscolo rafforza le ossa e le ossa magari quando diventi vecchio si rompono meno perché tu sei vecchio non sei vecchio ti prego no però sai io sto entrando comunque nei 50 in su però no sono ancora figo vorrei avere solo più muscoli sei molto figo allora se potessi cambiare una cosa di te a questo punto cosa cambieresti? me l'hai già risposto cosa cambieresti? sì sì muscoli ma in questo momento niente niente perché ci sono tutte le cose che posso fare le posso andare a correre posso andare in palestra è la testa che potrei cambiare un po' ok quale consideri il tuo più grande successo nella vita nella tua vita? due bimbe ok quale qualità apprezzi di più in una donna? quale età? quale qualità? quale qualità? cioè anni? no quale qualità apprezzi di più? ah ecco io sono molto molto esigente quindi la qualità è sempre mentale cioè cerebrale poi è ovvio che se c'è un bel fisico è quello non guasta e quale qualità apprezzi di più in un uomo? la spontaneità ok quale parole o frasi usi troppo spesso? praticamente è un avverbio praticamente chi è il tuo eroe? meno male noi siamo quelli noi siamo quelli praticamente gli altri sono teoricamente quale è il tuo eroe nella finzione? nella finzione ma l'uomo ragno ah e chi sono? spiderman spiderman ok e chi sono i tuoi eroi nella vita vera? eh l'ho detto mio papà e mia mamma ok e l'ultima domanda qual è la tua idea di perfetta felicità? di perfetta felicità? qua forse ci dovrei anche pensare perché ce ne sono tante di cose però credo che la felicità non esista per sempre credo che la cosa più bella sia la serenità quindi la mia idea di felicità è stare sereno ok ma sei sereno in questo momento? mai mai? mai? neanche con me sei sereno? no con te si adesso certo anzi questo è uno dei momenti più belli ok però scusa parliamoci chiaro ma chi è sereno? ma dai ma non esiste questo è vero guarda sereno sereno in questo momento che ci stanno facendo vivere in un modo strano posso dire io posso dire che sono serena perché ho a fianco una persona Umberto Maria mio marito lo dico sempre ma è la verità che devo ammettere che quando vado a letto la sera sorrido e chiudo gli occhi e sorrido e quando mi alzo la mattina sorrido e mi dà una grande serenità io prima ero molto più insicura non ho avuto una bella infanzia nei primi anni quando sono diventata famosa ho avuto un po' di problemi invece da quando sono 16 anni quasi 17 anni con Umberto Maria mi ha dato il modo di vedere la vita con più positività ma anche quando c'è tutto nero davanti non so se per te è così quando è tutto negativo lui riesce a vedere la positività lui la guarda e dico ma come è possibile che tu sempre dici la cosa giusta mi fai star meglio non lo so capisci quello che voglio dire? sì 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 le persone come Umberto sono quelle che poi contribuiscono a portare avanti il mondo con il bicchiere mezzo pieno e poi mio nonno diceva sempre quando una persona va a letto che dentro il letto si sente bene allora vuol dire che quella persona è più serena che nonna vedo una domanda ma cosa ci fai a Hong Kong tu? mio marito mi ha detto 12 anni fa 13 anni fa noi andiamo a vivere all'estero e ho pensato di andare a Hong Kong perché aveva dei lavori là lavoro molto spesso in Cina e allora siamo venuti a Hong Kong e sono 12 anni e mezzo che siamo qua ma io già da 16 anni che vengo qua è una città diversa adesso ma quando siamo venuti 16 anni fa per i prossimi non so 9-10 anni era una città meravigliosa invece con i problemi dell'umbrella e con Covid le cose si sono cambiate comunque puoi parlare puoi dire le cose che vuoi non è vero che c'è dittatura queste cose qua non devi non devi dire una parola contro la Cina sul resto puoi dire quello che vuoi ma non devi dire A sulla Cina e sul Presidente Xi niente io avevo fatto una canzone carina che faceva così viva la Cina 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 ridi 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 faccia a me occhio che il cinese si compra pure a te ma non l'ho pubblicata ancora dai che facciamo concerti in Cina facciamo concerto sociale e ballo cioè tu balli sulle canzoni mie l'italiano va molto di moda in Cina lo sai? molto di moda le musiche italiane piacciono moltissimo piacciono le musiche italiane ovunque però potremmo scegliere delle canzoni famose e fare veramente una cosa una prova dai un esperimento insieme certo però devo sentirti cantare la parte tua preferita di Cicale non sarebbe male assolutamente facciamo quella facciamo anche penso che un sogno così non ritorni mai più la facciamo con danza e voce sì e io danzo torno a danzare assieme a te tutti dicono ma perché non danzi più perché non balli più e adesso mi sono adesso vuoi di danzare assieme a te va bene? io non so ballare però io faccio cagare te lo dico subito non sai ballare per niente? zero e ho fatto pure ballando con le stelle pensa ah sì hai fatto ballando? 2010 ma proprio guarda seconda puntata mi hanno eliminato no ma il tuo partner era brava? era un'australiana che mi insegnava assieme al suo fidanzato ma erano troppo arrivisti loro pensavano che io sapessi le mosse che loro pensavano ma io non le sapevo quindi ci facevo più fatica c'era tanta tensione ma non lo sentivi neanche di muoverti un po' perché puoi anche farlo perché tu sei una persona molto ironica allora ballando con ironia sì sì mi muovo mi muovo ma mi muovo come Giorgio Gaber non mi muovo come te Giorgio Gaber ballava mi ricordo che il concerto che ho visto lui ti ricordi quando faceva tutte queste cose le cose le so fare ma sono in conclusione non sono diciamo nella danza però tu sai cos'hai che vende molto che non tutti hanno hai questa faccia simpatica questi capelli lunghi e allora sei un po' figo e hai un sorriso agli occhi che sorridono e allora tu trasmetti sei carismatic sì ti alzo la gamba casomai però sì mettiamo i sottotitoli magari a me no mi spacco se mi alzi la gamba fammi vedere un secondo riesci poco 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 fammi vedere la gamba dove è la gamba tu sei fuori dove è? su quello è 90 devi andare più su non ce la puoi fare con me mi sono già spaccato guarda mi ha commosso anche quello che hai detto di tuo papà di tua mamma e tuo nonno e sei una persona molto bella I am so happy sono così felice di averti intervistato di aver fatto questa chiacchierata con te si è di una simpatia unica però mi devi dare un bacio vuol dire che tu devi guardare me di qua io devo guardare qua devi mandarmi un bacio riesci devi guardare no no ah così però guardami così e tu di là così no 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 l'altra parte l'altra parte io sono di là vai vai Giuseppe Giuseppe Povia sei sempre la stessa sempre la stessa sempre con il sorriso si bisogna sorridere la vita Heather Parisi live da Hong Kong Giuseppe Povia grazie di cuore ci vediamo alla prossima settimana bye salutami Umberto dagli un abbraccio forte forte un abbraccio a te ciao 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 ci sei giuseppe ci sei mi senti ti ho sentito tutto il tempo con pavarotti madonna si guarda non siamo più in onda siamo fuori onda non siamo non stiamo registrando